Confidiamo di sì perché ci stiamo lavorando intensamente, in particolare il ministro Di Maio, come sapete, il primo responsabile competente per materia. Ovviamente è un dossier talmente importante che tutto il governo è proteso verso una soluzione, una soluzione che vogliamo di mercato, quindi una soluzione che vogliamo industriale. Noi non stiamo lavorando al salvataggio dell'Italia, stiamo lavorando per il rilancio industriale di quella che è un'infrastruttura fondamentale per il sistema trasporti paese e vogliamo che nel progetto di rilancio dell'Italia ci sia un tassello importante, quindi un ruolo importante che sia recitato dalla nuova società. Grazie!